L'Italia ha la più alta percentuale di medici di età pari o superiore a 55 anni nei paesi Ocse, un elemento che potrebbe comportare future carenze di personale sanitario. Lo segnala un rapporto dell'Ocse. Nel 2017 oltre un terzo di tutti i medici dei paesi Ocse aveva più di 55 anni rispetto a un quinto nel 2000. Ma mentre alcuni paesi hanno visto solo un piccolo aumento come la Norvegia, l'Australia e il Regno Unito, altri fanno i conti con un drammatico invecchiamento della forza lavoro medica. In Italia la percentuale di medici più anziani è aumentata del 36% nel periodo considerato, con il 55% di tutti i medici che nel 2017 avevano un'età pari o superiore a 55 anni, contro una media Ocse del 34%. In Francia la popolazione medica sta invecchiando quasi altrettanto rapidamente, con un aumento del 30% dei medici più anziani tra il 2000 e il 2017. Altri paesi come Israele, Spagna e Austria non sono molto indietro.